Benvenuti ai lettori di Fanpage, siamo qui oggi con il segretario della CGL Susanna Camusso. Buongiorno. Partiamo dalla recente vittoria della CGL, l'abrogazione dei voucher e del codice degli appalti per i subappalti, è una prima grande vittoria politica della CGL. È la prima volta che invece di aggiungere ulteriore precarietà si ne toglie un po' e questo è il segno che si possono fare delle cose. Secondo, mi ha ripristinato la responsabilità solidaria nel sistema degli appalti, cioè l'idea che quando si appalta del lavoro ci sono delle persone, uomini e donne che lavorano e il loro lavoro va retribuito e riconosciuto, quindi anche rispetto al sistema degli appalti è un altro pezzettino insieme alla responsabilità sociale che dice partiamo dal lavoro e dal riconoscimento del lavoro. Lo consideriamo un primo passo straordinariamente importante, ma un primo passo perché poi adesso c'è la carta dei diritti universali che va conquistata. Nella carta dei lavoratori che avete proposto c'è tutta una parte sul lavoro digitale, possiamo chiamarla, le tutele digitali. Si è parlato tantissimo in questi anni, si parla ovviamente di perdita del lavoro a causa delle innovazioni tecnologiche, a causa dei cambiamenti. Qual è il futuro? Che cosa si può fare per cercare di dare una speranza a chi oggi perde il lavoro a causa delle innovazioni tecnologiche? Mai come in questa stagione forse il futuro non siamo in grado di descriverlo davvero, perché la differenza tra questa, viene chiamata rivoluzione industriale, anche questa e quelle precedenti è questa idea del cambiamento continuo. Questo è sicuramente un problema, il primo problema credo per il lavoro, perché se la dimensione sarà quella del cambiamento continuo tu devi avere in continuazione gli strumenti per affrontarlo. La prima condizione è quella di avere un diritto davvero per le singole persone alla formazione e di organizzarlo, lo pensiamo come diritto che dovrebbe agire da subito, perché chi è al lavoro oggi non ha gli strumenti dell'evoluzione digitale. Una delle cose che l'evoluzione digitale determina è che chi ha competenze sta in un certo range, chi non le ha rischia di venire totalmente marginalizzato. Allora la prima cosa è evitare un nuovo dualismo radicalmente dualizzato che può intervenire. Il secondo tema è nel cambiamento permanente, oltre alla formazione permanente bisogna anche evitare che ci sia questa dualità che ormai è già in atto tra chi ha pochissime ore di lavoro e chi ha tantissime ore di lavoro. C'è un primo problema che si chiama ridistribuzione o si chiama possibilità di disconnettersi, tema che ormai in vari paesi si sta affrontando e anche grandi aziende stanno affrontando. Il terzo sarà la cultura del lavoro in prospettiva. Comunque il lavoro cambierà, comunque ce ne sarà di meno, avrà delle caratteristiche differenti, ci sarà del lavoro che continuerà a essere organizzato rigidamente, tanto lavoro che non sarà organizzato con le caratteristiche dell'orario giornaliero settimanale. E allora bisogna intrecciare tutte queste cose. Il lavoro è una condizione di identità, di vita, di progetto per le persone, ridistribuirlo, formarsi, avere i nuovi diritti di questa era è fondamentale perché se invece si accetta la marginalità di fette crescenti della popolazione non ci sarà sostegno al reddito che tenga. È un punto molto interessante perché di questo ne dibattiva anche il Presidente del Forum Mondiale sull'Economia, lui diceva il mondo si dividerà in due parti, chi avrà le competenze e quindi si ricollocherà e chi sarà lasciato ai margini. Lei pone al centro un punto importantissimo, quello della formazione, visto anche all'interno della proposta. Secondo lei chi si deve occupare di questa parte di formazione? Mi dovrebbe da dire tutti. È proprio uno di quei temi che dovrebbe diventare il cambiamento culturale e il proporsi tutti come attori possibili. Da chi dà lavoro, pubblico, privato che sia, a un governo che deve immaginare che paese vuole negli anni a venire, non domani mattina, ma nel tempo che verrà, noi, perché bisogna che si tutelino i lavoratori. Quindi una critica, non vede un governo che sta immaginando il paese da qui a vent'anni? No, io credo che questo sia uno dei grandi temi che abbiamo, ma lo dimostra la cosa più banale. Crollano i viadotti e non si pensa che invece bisogna fare un'operazione vera di prevenzione, di ispezione, di conoscenza dello stato delle nostre infrastrutture. Così peraltro si creerebbe anche tanto lavoro qualificato e ci sarebbero delle risposte immediate. È come se vivessimo sempre in una dimensione di tempo molto ristretta, il pochissimo tempo di un telegiornale sostanzialmente, mentre invece siamo di fronte a eventi, penso, a rivoluzione digitale che condizioneranno decenni e decenni del tempo che abbiamo dinanzi a noi. Reddito di cittadinanza, ci sono varie proposte, lei cosa ne pensa? Io penso che una cosa sia un reddito di inclusione, cioè far uscire dalla marginalità tutti i versanti che sono quelli della povertà, di chi ha una capacità di avere strumenti forti rispetto alla disoccupazione, ma che l'idea del reddito di cittadinanza invece sia un'idea che priva le persone del lavoro del loro progetto e questo è il punto su cui bisognerebbe fare davvero una discussione seria. Proviamo a immaginarci un mondo in cui le persone non hanno una loro autonomia ma dipendono dal sussidio che i vari governi possono decidere nelle varie situazioni e determinare una condizione per cui non c'è la possibilità per le persone di sviluppare il suo progetto o c'è solo per chi in qualche modo è privilegiato, vuoi per percorsi di istruzione, vuoi per reddito e così via. Avendo un'idea che è quella che si propone l'uguaglianza e la possibilità di accesso per tutti, continuo a pensare che bisogna spendere tante risorse per creare lavoro, non per creare sussidio. L'800, il 900 e il XX secolo sono stati i grandi secoli delle masse, il 900 e il XX secolo soprattutto. Il sindacato è stato un corpo intermedio, importantissimo corpo intermedio. Nel XXI secolo siamo a una grandissima disintermediazione su tutti i campi. Come si definisce il sindacato e soprattutto abbiamo parlato di visione da qui a vent'anni. Come l'immagina il sindacato da qui a vent'anni? Sicuramente il problema per il sindacato c'è ed è l'idea che non ha più grandi luoghi già organizzati che gli permettono di organizzare la tede e il lavoro, quindi deve organizzare se stesso. È come se fosse semplice andare in un luogo, oggi bisogna andare in tanti luoghi nel territorio, in luoghi dispersi, bisogna riuscire a raggiungerli, quindi bisogna ripensare il modo in cui si ragiona. Per noi tutta la campagna di costruzione della Carta dei diritti e anche la campagna referendare è stata una grande occasione per capire come si deve interloquire con mondi che si sono molto articolati e che pensiamo di continuare ad organizzare. Credo che la stagione in cui tutti davano per scontato che si poteva disintermediare sta finendo, perché in realtà poi ci si trova di fronte al fatto che ogni singolo si sente più solo e più abbandonato e questo è un tema che per esempio nel mondo del lavoro è già molto evidente. Grazie mille per essere stato qui. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a voi per l'ospitalità.